Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Bande di ladri a caccia di grossi escavatori da utilizzare per mettere a segno colpi nei distributori di carburante La tragedia del manager è rimasto intrappolato nell'auto dopo l'incidente e poi morto carbonizzato davanti agli occhi della figlia A Centinarola di Fano c'è un sottopasso che è al buio ormai da due anni e di sera diventa pericoloso È una studentessa affanese di 21 anni, la vincitrice dell'auto, primo premio della lottoria del Carnevale di Fano Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a Occhio alla Notizia Iniziamo dalla cronaca, come avete sentito nei titoli di apertura ci sono bande specializzate nell'assaltare i distributori di carburante E utilizzano grossi mezzi per sradicare le colonnine che contengono i soldi e impossessarsi del loro contenuto E ho successo anche l'altra sera a Monteporzio, vediamo Banditi in azione la scorsa notte a Monteporzio sulla Pergolese Rubato un grosso escavatore dalla ditta Nasoni e devastato il distributore di carburante della Kuwait Che dista poche centinaia di metri dalla ditta per rubare i soldi dei self service Sradicati completamente dalla loro sede con la bena del grosso mezzo Le colonnine che contengono il contante per portarseli in un luogo sicuro e appartato In un campo adiacente, portando via il contante di due giornate di incasso al self Che ammonterebbe a diverse migliaia di euro Oltre a questi, nel computo dei danni, si sommano i costi delle strutture distrutte E i mancati incassi dei prossimi giorni Perché l'intera area di servizio è resa inutilizzabile Qui praticamente quello che portano via scardinano gli accettatori delle banconote E carica quelli, li portano via e poi li aprono come vogliono appena fuori Sono arrivati qui con una grossa ruspa di consueto Ormai andrebbe normale Hanno sradicato tutti Hanno sradicato i due accettatori, caricati e portati via In sette anni di attività non si è mai vista una cosa simile Ci dice la moglie del titolare Ci sentivamo relativamente sicuri per via dell'albergo adiacente Che comunque è sempre un punto di passaggio Ma niente è più come prima Ora ci tocca ricominciare da capo Le telecamere di videosorveglianza hanno catturato le immagini Che ora sono in possesso dei carabinieri Che vedono l'azione tra individui Che fanno scempio della struttura per impossessarsi delle casse E forse, ma siamo sempre nell'ambito delle ipotesi Sarebbero servite a furti simili Anche le altre due grosse scavatrici Portate via nel campo base della Pavimental In zona Molino Vecchio di Mondolfo Per seguire i lavori delle opere compensative Dell'A14 Ma inspiegabilmente Dopo una fuga nei campi di ben sette chilometri I due grossi mezzi sono stati abbandonati E ritrovati questa mattina dagli operai della ditta E dai proprietari dei campi Arrivati in gandiera abbiamo trovato Prima scassato delle cisterne di nafta Che mancavano Portato via una guindalata di nafta E poi abbiamo verificato Pensavo che era un furto agricolo Poi Seguendo le tracce Che uscivano dal cantiere Mi sono reso conto che Non erano più tracce di nafta Mancavano proprio dei mezzi in cantiere E mancavano due pale Che poi le abbiamo ritrovate nei campi Qui nella zona di Via Sirpettine In quest'area qui Il gigante Lasciato lì in mezzo a un campo di piselli E perché è stato abbandonato? Perfettamente marciante Con il pieno di carburante Dopo un paio di tragitti Che come mostrano le evidenti tracce sul terreno È stato anche abbastanza lungo Forse qualcosa è andato storto Un mancato appuntamento con i complici O qualcuno o qualcosa Hanno disturbato la loro azione criminosa A queste ed altre domande Dovranno rispondere le indagini Degli uomini del capitano Alfonso Falcucci Della compagnia Carabinieri di Fano Che indagano su tutti e due gli episodi E rimaniamo sulla cronaca nera Perché c'è stato un tentato furto La scorsa notte I danni del supermercato Eurospin A Montecchio di Vallefoglia Dopo le 23 dalla centrale operativa della Vigilar È stato notato un individuo a volto coperto A girarsi all'interno dello stabile L'intervento di due pattuglie Inviate subito sul posto Ha messo in fuga i malviventi Che non hanno avuto il tempo di esportare nulla Il ladro per introdursi nel locale Aveva forzato una porta d'ingresso E mi hanno messo l'impianto di allarme Tagliando i fili dell'impianto È rimasto intrappolato all'interno della sua Ranger Rover Che si è ribaltata più volte Dopo aver urtato contro un muretto di recinzione Nella frazione arceviese di Sassoferrato Mentre era impegnato in un percorso fuoristrada La vittima si chiamava Vittorio Mallucci 56 anni di Corinaldo L'incidente è accaduto attorno alle 15.30 di ieri L'uomo è rimasto incastrato dentro all'abitacolo Ed è morto carbonizzato quando l'auto si è incendiata Le fiamme si sono sviluppate nella parte anteriore dell'auto Per poi estendersi a tutto l'abitacolo Per l'uomo non c'è stato scampo Con lui viaggiava una delle sue tre figlie La quattordicenne si è miracolosamente salvata E ha tentato in tutti i modi di salvare il padre Cercando soccorso e aiuto nelle case poco distanti dall'incidente Purtroppo però il tempo non è stato sufficiente Quando sono arrivati i soccorsi Ormai era troppo tardi E l'auto era completamente avvolta dalle fiamme E ora cambiamo discorso Parliamo delle vostre segnalazioni Sempre importantissime per noi Andiamo a Centinarola Dove c'è un sottopassaggio estremamente pericoloso Soprattutto di notte Filippo Pucci Pericoloso Troppo pericoloso Senza luci da oltre due anni Eh sì perché le luci ci sono Ma dopo la loro installazione Non sono mai state accese È la situazione in cui versa il sottopasso di Centinarola In via Fanella a Fano Diverse segnalazioni La prima risale a settembre 2014 Dove residenti e automobilisti Lamentavano la scarsa luminosità E l'alta pericolosità Per chi è in bici o a piedi Il sottopassaggio da quasi due anni È completamente buio A piedi, in bicicletta Per le persone che vanno a scuola Vanno al lavoro Vengono tutti gli sportivi Che vengono verso le colline Di Montegiova Il prelato a correre È completamente buio Quindi di una pericolosità estrema Dopo i lavori di ampliamento Della terza corsia dell'A14 Autostrade per l'Italia Oltre ad aver allungato i sottopassi Ha installato diversi fari ad alta potenza Sotto il ponte E così senza pensarci un attimo Alcuni abitanti della zona Hanno contattato comune e polizia Allora di questa cosa sono informati Sia il sindaco Massimo Seri Che il dirigente del commissariato di Fano Stefano Serretti Hanno preso atto della cosa Ma non si è ben capito Di chi sia la competenza Da così informazioni ricevute Sappiamo che c'è stato un ingegnere Che ha fatto una progettazione di lampade Forse le lampade sembrano che siano troppe Per cui il comune non è intenzionato Ad accenderle tutte Da ricordare inoltre che nella stessa situazione Versano i sottopassi di Rosciano e Sant'Orso Se dovesse succedere un incidente serio Speriamo di no Qualcuno dovrà risponderne Quindi accertare di chi sono le competenze Ad avere una risposta concreta In merito in tempi brevi E continua il percorso dell'amministrazione comunale Per dar modo ai cittadini Di esprimere le proprie idee Sulla città del futuro Così nasce a Fano L'Urban Center Uno spazio dedicato alle idee Per la città del domani Il servizio è di Fabrizio Natichi Riqualificazione e rigenerazione urbana Di questo si è parlato stamattina Alla Mediateca Montanari di Fano Nell'ambito del progetto Foro Urbano Che già lo scorso 4 marzo Ha rappresentato un'occasione unica Di condivisione di idee Tra cittadini e pubblica amministrazione Per migliorare la città L'assessore Marco Paolini Ha individuato nel proprio intervento I punti strategici Sui quali si sta già lavorando Per costruire una Fano di tutti e per tutti I luoghi da rivalorizzare L'importanza del turismo E delle nuove tecnologie Per una città ancora più a misura d'uomo Con particolare attenzione Alla comunicazione tra pubblica amministrazione E cittadini Quanto è importante la partecipazione attiva E la formazione dei cittadini in questo progetto? Ma è importantissimo Perché una città che mette a frutto Le competenze, le culture diffuse Le conoscenze dei propri cittadini È una città che fa un balzo in avanti Abbiamo bisogno del concorso di tutti Per disegnare questa Fano che vogliamo In un orizzonte che arriva e supera il 2030 Dal futuro ecosostenibile e tecnologico Allo sport Passando per ferrovia e adeguamento sismico Un piano strategico ricco e ambizioso Dove i veri protagonisti devono essere i cittadini E capiamo argomento Facciamo un balzo nell'estate Perché la Giunta Comunale ha approvato L'istituzione di un centro estivo Per bambini e bambine Di età compresa tra i 3 e i 6 anni Il servizio sarà attivato Presso la Scuola dell'Infanzia Gallizi Per un numero di 60 utenti Per 5 settimane Dal 3 luglio al 4 agosto 2017 Ampliando l'appalto relativo La gestione del nido Il Grillo E al correlato servizio di nido estivo L'orario di apertura verrà ampliato Rispetto agli ultimi anni Fino alle ore 18 Con possibilità di uscita alle ore 14 Adeguando la retta in base all'Isee Per le due fasce di utilizzo Le iscrizioni saranno effettuate Negli uffici competenti Dei servizi educativi Nei prossimi giorni verranno Debitamente comunicate Sia la data di avvio Delle iscrizioni al servizio estivo Sia le relative rette di riferimento E parliamo di salute Di prevenzione Tutta questa settimana Nelle oncologie del nostro territorio Troverete una postazione E personale della Lilt Che vi parlerà appunto Di prevenzione E buone abitudini alimentari In concomitanza con l'arrivo Della primavera Si svolge da circa 10 anni Uno dei principali appuntamenti Della Lilt La settimana nazionale Per la prevenzione oncologica Istituita con decreto Del presidente del consiglio Che ha lo scopo Di diffondere la cultura Della prevenzione E l'importanza Di corretti stili di vita Il simbolo della settimana Per la prevenzione È la bottiglia d'olio d'oliva Extravergine Il principe Della dieta mediterranea Anche nelle strutture Del nostro territorio I volontari della Lilt Sono presenti Con la loro postazione I banchetti Per questa settimana Saranno non solo qui In oncologia a Fano Ma anche presso L'oncologia Dell'ospedale San Salvatore A Muraglia Con orario Dalle nove A mezzogiorno Attendiamo Tutti quelli Che vogliono Informazioni Consegneremo L'opuscolo Gratuitamente E anche il gadget Della settimana Della settimana Nazionale Della prevenzione Oncologica Che è una bottiglietta Di olio Di extravergine Di oliva Prevenire È l'unico mezzo Efficace Per abbattere Drasticamente Le statistiche In campo oncologico E prevenzione E anche conoscenza Adesso sappiamo Da dati scientifici Che circa il 60% Di tutti i tumori È causato Degli stili di vita Non corretti Il fumo L'alimentazione E anche Ancuni ambienti Di lavoro Quindi adoperarsi In questo In una vita sana Che consiste In un'attività fisica Nel rispettare Le regole alimentari Che sono proprie Della nostra dieta Noi abbiamo inventato La nostra dieta mediterranea Che è un capisaldo Nella prevenzione Di questi tumori Direi che Questo è un po' Una soddisfazione Ed è una garanzia Per le prossime generazioni Successo di interventi Per la terza ed ultima tappa Del percorso promosso Dall'assessorato Dal titolo Turismo, eventi e manifestazioni Relatore Un professore De Cecione Guido Guerzoni Erano circa 150 Gli organizzatori di Kermesse Rappresentanti di istituzioni Enti e stakeholder Un pubblico attento Interessato Ma anche protagonista Quello che ha visto partecipe All'ultima tappa Del percorso Turismo, eventi e manifestazioni Promosso dall'assessorato Alla cultura e turismo Del comune di Fano Svoltosi sabato mattina Alla sala verdi Del teatro della fortuna Relatore di questo Ultimo appuntamento Guido Guerzoni Docente di museo management All'università Luigi Bocconi Di Milano Nonché collaboratore RAI E protagonista Di convegni e seminari Il suggerimento del docente È di prendere Ogni singola manifestazione E valutarne l'impatto Non solo economico Ma anche sociale Occupazionale Ambientale E sotto l'aspetto Della comunicazione Gli eventi Hanno capacità propulsiva Se riescono a dare attenzione A pubblici diversi Primo tra tutti Il target A cui riferirsi Ovvero La cittadinanza Che vive il luogo In cui si svolge il festival Gli eventi Hanno bisogno di anni Per riuscire a imporsi A fidelizzare il pubblico Difendendo sempre La qualità Della programmazione Cioè tutti gli eventi Che in Italia Sono sopravvissuti E hanno raggiunto il successo L'hanno fatto dopo anni Di pazienti investimenti Quindi troppo spesso Si pensa che basta Organizzare Per avere una buona risposta Non è così In Italia Di eventi Di festival Ce ne sono quasi 2000 all'anno Ci sono Più di 17-18000 Mostre Non è facile Imporsi All'attenzione Di un pubblico Che ha un eccesso Di offerta Che a volte La disorienta Tra i tantissimi eventi A Fano È riconosciuto Quello del carnevale Che vanta la longevità In Italia Ma come è realmente La situazione? Soffre un po' La crisi che hanno tutti i grandi Carnevali italiani Di Areggio Putignano Perché sono manifestazioni Importanti Che durano pochi giorni Lo sforzo che va fatto È far sì che l'attenzione Sul lavoro preparatorio Che dura tutto l'anno Divenga attrattivo Cioè come se il processo Di produzione del carnevale Che poi non si vede Sia in qualche modo Visibile Coinvolgendo il pubblico Anche nei mesi Che precedono E seguono L'organizzazione Del momento clou In conclusione Nei prossimi mesi L'assessorato Metterà in programma Ulteriori occasioni Di confronto Cosa vuol dire bene? Troviamo un modo per E proprio a proposito Di carnevale Si è concluso L'ultimo atto Naturalmente Di questa manifestazione Con la consegna Dell'auto Il primo premio Della lotteria Si chiama Maria Vittorio Micioli È una studentessa Fanese di 21 anni Ed è la vincitrice Del primo premio Della lotteria Del carnevale Un po' emozionata Accompagnata dal fidanzato La giovane 21enne Sabato pomeriggio Si è presentata Al central garage Di Rusciano Dove ad attenderla C'era una nuovissima E fiammante Opel Carle Maria Vittoria Che in un totale Ha comprato tre biglietti Ha avuto la fortuna Di possedere Il ticket vincente Tra gli oltre 14.000 venduti Ed aggiudicarsi Così Il super premio Finale Le chiavi dell'auto Le sono state consegnate Da Federico Guerrieri E Francesco Paceri Del central garage E anche da parte Della presidente Dell'ente carnevalesca Maria Flora Gian Marioli Che grazie al ricavato Dei biglietti venduti L'ente carnevalesca Potrà donare 4.330 euro All'opera Padre Pio Mentre Oltre 15.900 Euro Andranno Alle associazioni Del territorio Bene Ed ora Come sempre Facciamo In conclusura Di Tg Del lunedì Passiamo La parola A Matteo Del Vecchio Dalla redazione sportiva Adesso Fioretti Con una rincorsa Brevissima E spiazza Bassi E al Mezz'ora Del primo tempo Il Fano Passa in vantaggio Quello che avete appena visto Amici sportivi Di Fano TV Era il gol Con cui ieri L'Alma Juventus Fano È riuscita ad espugnare Il Tardini di Parma Una vera e propria impresa Quella dei Granata Che l'ultima volta Era riuscita nel 1983 Quando tra i giallo-blu Locali Militavano giocatori Del calibro di Gabriele Pin Fausto Salsano E Stefano Pioli Attuale allenatore Dell'Inter Abbiamo aperto così La pagina sportiva Perché crediamo Che il calcio di rigore Di Fioretti Al 29esimo del primo tempo Si è destinato A restare Negli annali Della storia Granata Un gol Che fa esplodere di gioia Gli oltre 300 tifosi Saliti in Emilia Per la trentesima giornata Di Lega Pro E che riapre Prepotentemente Il discorso salvezza È un'alma compatta Quella che mette In campo Cuttone Capace di soffrire E fare quadrato Di fronte a Menegatti Ultimo baluardo Di una difesa Che nella prima Mezz'ora di gioco È chiamata Agli straordinari Sulle sortite Di Lucarelli Barai e Scavone Prima della giocata Di Filippini Che al 29esimo Salta con un dribbling Il suo diretto Marcatore Nunzella Costringendo Quest'ultimo al fallo Freddo Fioretti dagli 11 metri Che spiazza Bassi Per quello che resterà Il gol della vittoria Nonostante i numerosi Tentativi dei padroni di casa Che già prima Della fine del primo tempo Vanno vicini al pari Con Capitano Lucarelli E Nocciolini Nella ripresa Sale in cattedra L'estremo difensore Granata Che blinda i tre punti Con miracoli a ripetizione Prima su Scavone Calaiò Ed infine su Scaglia Il cui vano tentativo Al 94esimo E' l'ultimo atto Di un match Che fa salire l'Alma Al quartultimo posto In classifica In compagnia del Modena A cinque lunghezze Dall'ultimo posto E ad un solo punto Di distanza Dalla salvezza diretta Dove si trova ora Il Forlì Squadra che i ragazzi Di Cuttone Si troveranno Sulla loro strada Domenica prossima Per un big match Che se dovesse finire Come nell'ambiente panese Ci si augura Farebbe uscire L'Alma Juventus Per la prima volta Dalla zona retrocessione E chi invece Continua a viaggiare Nei piani alti Della classifica Nonostante la sconfitta E' il Flaminia Nel campionato nazionale Di calcio a cinque Femminile di serie A Pagano dazio Le ragazze Di Alessandri Imbriani Sul campo Del Real Grisignano Che si impone Sulle fanesi Per 4 a 3 Avvicinandole In classifica La squadra Di Patron Grandicelli Resta comunque seconda Ma vede allontanarsi Il Rambla Padova Di quattro lunghezze Quel Rambla Padova Che la scorsa settimana Si era imposta Proprio sul Flaminia Per 3 a 2 Nel primo turno Della Final 8 Di Coppa Italia E dalla sconfitta Del Flaminia Passiamo a quella Del Fano Rugby Che ieri è acceso in campo Per la quarta giornata Dei playoff Promozione per la serie B Non demeritano I ragazzi di Franco Tonelli Al cospetto Di una formazione Anagraficamente E tatticamente Più esperta A far la differenza Alla fine E' proprio la maggiore Esperienza dei Romagnoli Abili a sfruttare Due errori dei fanesi Ad inizio e fine partita 19 a 5 Il risultato finale Con la truppa Rosso-blu Che esulta però Grazie alla linea verde Dell'Under 18 Matteo Fulvio Golini Infatti L'unica meta degli ospiti Che a Forlì Hanno fatto debuttare Un altro giocatore Della Juniores Il non ancora Diciottenne Luca Branchini E anche nel volley Non sono andate meglio Le cose nel fine settimana Con le squadre del territorio Virtus Fano E APAP Talcinali Lucrezia Entrambe sconfitte In serie C Chi non perde mai Invece è il CSI Fano Che ieri ha chiuso Il 32esimo campionato Di pallavolo A squadre miste Partito lo scorso novembre Con 11 squadre iscritte Il campionato Ha vissuto il suo epilogo Ieri al Palace Iende Con le finali Open E Amatori In questa categoria Vittoria per 3 a 0 Di Super FX Su Sportland Mentre da Cardiopalma La finale Open Con Idronova E la compatibile Che supera 3 a 2 McEnergy Dopo essersi trovata Sotto per 2 a 0 200 circa Gli atleti impegnati Nella manifestazione Che come ogni anno Metteva in paglio Il trofeo Avis Fano Confermando lo stesso legame Tra le due associazioni Finalizzato alla sensibilizzazione E alla donazione del sangue Venerdì prossimo Super FX E Idronova E la compatibile Torneranno di nuovo in campo Per la disputa Della Supercoppa E da un evento Locale Amatoriale Passiamo invece A un appuntamento nazionale Che si svolgerà a Fano Nel prossimo fine settimana E che è stato presentato Nei giorni scorsi Nella Sala della Concordia Del Comune di Fano Saranno circa 100 Tra atleti Accompagnatori E familiari Le persone che nel weekend Del 25 e 26 marzo Arriveranno a Fano Per partecipare Al torneo nazionale Di Bike Polo Nella città della Fortuna 16 squadre Provenienti da tutta Italia Parteciperanno ad un evento Che mette in paglio Degli slot Per le qualificazioni I campionati europei Location Sarà la pista Di pattinaggio di Sassonia Dove la locale squadra Del Bike Polo Fano Si allena costantemente Da tempo Attirando ogni volta La curiosità dei passanti La manifestazione Polo on the beach Spring edition È stata presentata Con entusiasmo Dall'organizzatore Luca Longarini E dall'assessore Allo sport Caterina Delbianco Che durante la conferenza stampa Ha ricordato Come ancora una volta Fano si dimostra capace Di accogliere E promuovere Anche i cosiddetti Sport minori Offrendo una pluralità Di eventi Che fanno onore Al comune di Fano E che sono di forte Attrattiva turistica E con il Bike Polo Si chiude la pagina sportiva Di questa sera Come sempre Prima dei saluti Vi ricordo L'indirizzo mail Al quale potete inviare Le vostre segnalazioni Che è Sport Chiocciola Fanotv Dalla redazione sportiva È tutto L'appuntamento con lo sport Di Fano ed Intorni A lunedì prossimo Buona serata Bene Grazie Matteo E buona serata Anche a tutti voi Termina qui Questa edizione Di Occhio alla Notizia L'informazione Tornerà domani mattina Puntualmente alle 7.30 Con Occhio ai giornali Buon proseguimento di serata A tutti voi Buon proseguimento di serata